Ciao a tutti ragazzi, io sono Corridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento i regali che mi ha fatto il nerd di turno, Manuel, mio grande amico e tra l'altro persona che mi fa da moderatore da almeno 4-5 anni e soprattutto che mi sopporta da tutto questo tempo, tra l'altro livornese doc come me e lo ringrazio da morire perché mi ha fatto questi due regali per il mio compleanno sapendo appunto della mia passione per la Games Workshop e soprattutto appunto per Warhammer 40.000 o comunque Warhammer anche in fantasy, ha deciso di farmi questi regali soprattutto l'inquisitore Eisenhorn perché in una delle tante live insomma che ho fatto delle domeniche ludiche si stava a parlare dei nostri personaggi preferiti di Warhammer 40.000 e l'ho nominato talmente tante volte che lì ci ho fatto un paio di palle così e ha deciso di regalarmelo tra l'altro se non erro dovrebbe essere della Black Library e in tiratura limitata comunque ve ne parlo un po' e vi faccio vedere dopo la sigla Allora intanto Manu, grazie veramente di cuore, grazie da morire perché mi ha fatto dei regali bellissimi tra l'altro anche mi ricordo con te si parlava di Nighthound, lo sai se sono i misaggi preferiti si parlava di Shadespire che mi ha fatto parlare tra l'altro su Tabletop Simulator, anche lì ti ringrazio e mi ha regalato il romanzo in inglese della Black Library, The Mirror and City, appunto di Shadespire questo qui non è il 40.000, questo è Warhammer Age of Sigmar, perché mi garbava molto a vedere un po' delle ambientazioni di Warhammer Underworlds e questi romanzi della Black Library purtroppo però vi dico una cosa, anche no, e ora vi spiego, purtroppo da una parte sono soltanto in inglese o almeno era quello che dicevo qualche mese fa, però purtroppo appunto sono in inglese mi tocca leggermelo in inglese, che scatole ragazzi è normale, cioè anche chi lo conosce bene lo insegna a scuola, magari quando si vuole rilassare a casa e vuole stare a tradurre preferisce leggere nella propria lingua, siamo tutti uguali però sotto questo punto di vista mi hanno fatto migliorare molto nella lingua e ora sono già alla bellezza di quattro romanzi, il prossimo sarà questo qui che mi leggo dalla Black Library in inglese, perché mi interessava come ho già di tante volte leggere i romanzi della porca dozzina e della tredicesima legione penale del colonnello Sheffer di Warhammer 40.000, la cosa bella è che Hobby and War e poi Mondadori hanno tradotto i primi tre sì, ma i romanzi sono sei, e i lati tre come me li leggo? classica, non voglio dire niente però all'italiana cioè si traducano i primi romanzi, i papellati, no perché non hanno venduto sì, ma la gente te l'ha comprato e vorrà sapere come finisce la storia lasciamo perdere, chiusa parentesi poi ovviamente anche di tanti altri racconti mi garbava a sapere della saga degli Ultramarine e del capitano Ventris, mi garbava a sapere come finiva ne hanno fatti uscì tre, quando invece sono sei e stanno per pubblicare il settimo e quindi per forza di cose ho dovuto leggermi in inglese, ma il primo libro ho fatto una fatica su Davo il Zeon do un po' in o meno, ora tranquillamente li leggo in inglese senza alcun problema perché è normale, impari anche a padroneggiare un po' di più una lingua leggendo un romanzo di 300-400 pagine in un'altra lingua che appunto non è la tua e quindi questo qui della Black Library, come tutti i romanzi della Black Library, sono solo in inglese anche se l'andate a comprare in un negozio della GV e poi mi ha regalato Aisenhorn perché in tutta l'ambientazione di Warhammer 40.000 i miei personaggi preferiti sono tre, vabbè, primo l'imperatore l'imperatore è il preferito di tutti, a meno di chi segue l'imperium e poi ho altri tre personaggi preferiti che mi garbano a morire il primo è Aisenhorn perché è un inquisitore che mi garba intanto vi faccio vedere se trovo qualche immagine, è un inquisitore molto particolare perché non è il classico inquisitore come ad esempio Jack Draco sempre dei romanzi della Black Library e tanti altri che è tutto impostato, non ride mai, non fa mai una battuta se fa una cosa un pochino blasfema subito si mette, si flagella si mette a pregare e prega il dio imperatore no, lui è un più... mi piace Aisenhorn perché sa al momento quando ridere se si sa fingere, è un trasformista, sa fingere di essere un ubriacone sa fingere di essere anche perché una volta uno che va con prostitute e cose del genere e sa anche fingere di essere un eretico del caos per portare a compimento la sua missione ovvio, a livello di inquisitore, è un inquisitore con la I maiuscola è uno di quelli veramente che ti mette a rogo e ti ammazza segue tutti i dettami dell'imperatore e la miniatura è veramente molto bella perché non è una miniatura che si può schierare giocando a Warhammer 40.000 ma è una miniatura che metterò sicuramente in una prossima banda di Kill Team e quindi è il mio primo personaggio preferito il secondo è Gilliman, ovviamente il primarca degli Ultramarine e il terzo mio personaggio preferito è Cage della tredicesima legione penale che mi piace veramente da morire è uno schifo umano però il mio personaggio preferito era lui, infatti me l'ha regalato e lo ringrazio veramente di quale mi piace, è da morire anche il manuale della Black Library alla fin fine sono storie, non ci sono né immagini né niente dentro è un bel tomo, tra l'altro rilegato veramente da paura e questa ragazzi è roba che dovete leggere in lingua originale ma è roba veramente da collezione quindi spettacolare io ti ringrazio Manu, veramente di cuore per questi regali splendidi vi ricordo che se volete acquistare qualsiasi prodotto della Games Workshop anche colori in sovrimpressione, primo link in descrizione sul sito della giocolibreria Semola usate sempre al momento dell'acquisto il codice discount Coridan7 scritto tutto a maiuscolo Coridan7 per avere subito uno sconto del 7% quindi se dovete comprare anche un semplice colore andate sul sito della giocolibreria Semola che spedisce in tutta Europa anzi in tutto il mondo spedizioni che varivano in 48 ore a casa e tra l'altro usando il codice sconto Coridan7 avrete uno sconto del 7% quindi andate a darci un'occhiata io ringrazio ancora una volta Manu veramente spettacolare fatemi sapere un po' cosa ne pensate con un commento e questa è roba veramente bellissima